Un dizionario per conoscere erbe, piante, funghi con le loro denominazioni scientifiche quanto quelle dialettali, un dizionario per riportare alla memoria termini ed usanze della cultura popolare spesso a rischio caduta nell'oblio. È l'erbario dialettale Umbro e Ugubino presentato sabato scorso alla Biblioteca Sperelliana di Gubbio scritto da Luca Baldelli, volto noto nel panorama politico Umbro, ex consigliere provinciale, cultore e studioso di tradizioni popolari. Un contributo il suo che ha inteso offrire un dizionario per conoscere erbe, piante e funghi nella loro accezione dialettale con tutte le loro molteplici proprietà codificate dagli usi e dalle cognizioni che la tradizione popolare ha tramandato. Questo libro, l'erbario dialettale Umbro e Ugubino, che nasce da una passione, una passione intensa che è quella della riscoperta della cultura popolare che trova nelle erbe, nella farmacopea tradizionale legata alle erbe, un addentellato fondamentale. La nostra cultura tradizionale è ricchissima, è sterminata e riscoprirla è sicuramente un servizio che nasce da un atto d'amore mio verso la mia comunità, verso la storia della mia città. Andiamo a riscoprire attraverso questo libro gli impieghi culinari, farmacologici, farmaceutici, tradizionali, rituali di 50 specie di erbe, funghi e fiori. E quindi è un'opera in questo senso, non dirò unica perché altri hanno battuto comunque questa strada prima di me, però senz'altro nella trattazione sistematica voce per voce sicuramente credo sia un'opera innovativa e completa e può portare anche a degli sviluppi importanti nella trasmissione, nella riscoperta di una cultura popolare che oggi ha anche prima di tutto un valore culturale e poi potenzialmente può diventare perché no un volano economico in questi periodi in cui la dimensione locale comunitaria viene riscoperta come valore aggiunto. La banalissima erba muraiola ha una quantità di proprietà impressionanti ed ha anche impieghi nella cucina che fanno parte della cultura tradizionale. L'aio del cucco, cosiddetto aione, è una specie che è stata censita e studiata da Dioscoride Pedagno, un importantissimo botanico dei secoli scorsi. E quindi c'è tutto un campionato, culinario enorme, c'è il tasso albero della morte, c'è il tasso barbasso, tantissime piante ognuna delle quali ha una proprietà che si inserisce appunto nel filone o farmacologico o rituale o culinario addirittura.